Gioantile, ti Gioantile si è unita al coro, oggi due bollini rossi significa due giovani, due giovani e Gabbani, vabbè ormai Gabbani ragazzi, vuol dire che finisci anche lo slogan? No, Gabbani, solo per questo ti terei una spazzolata, è demarcante però, allora dolce Gabbani diciamo tutte, ok, allora Gabbani, vincitore di Isaremo con quella canzone meravigliosa che avete fatto prima, volete rifare un pezzettino? Noi! E allora avanti poco, che sfera in un piano, elaboriamo il lutto con un amè, amè Eeeh! 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 Talenti ragazzi, più talenti eh! Mi sei arrivato, mi sei arrivato, diamo in comune un'amicizia al suo maestro di chitare, Salutevo Alessandro Di Diomasa! Sì, penso quanti con noi, Alessandro Di Diomasa, è stato il tuo maestro al musicantiere, quindi, al musicantiere, ma che cantavi quando eri ragazzetto, che cantavi? Ma cantavo... Ciao ragazzi, ciao! flowing county Ciao ragazzi, ciao! Now ragazzi, cia-o! Voglio dirvi che Voglio dirvi che che vorrei per lei Allora, finalmente potrei abbracciare tutti